Chi disse preferisco avere fortuna e talento per cercare l'essenza della vita? La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna della vita. Terrorizza pensare che sei così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro. E per un attimo andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre, allora si vince. Eppure no, allora si perde. A volte in una partita la palla colpisce. A volte in una partita la palla colpisce. Sì, david, 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 david. E stiamo sempre in questa meraviglia e bellissima, migliore, 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 migliore dell'ultimo periodo, per questo ottimo, per questo anno, che aveva in realtà stato 16, 17, quindi stiamo sempre continuando con questo migliore. e spero sempre di contattare per altri giorni. Ci vediamo, comunque, sempre molto bene, da questo punto di vista. Ora vediamo. Being ready after nothing at the temperature, practically at the temperature, I repeat, as I said just before, 16, 85 and 16 Celsius, but a really important thing in the atmosphere is that yes, in this moment we have and I think for all the rest of the day, so today we have, those beautiful blue skies and golden session and I think in fact, all along the way However, in general, less hours than this sound, this is kind of comparison, but the American Fest is because as you know, we are completely different shadulla. Well, so say Denise so from the beautiful window with the new with the new gray curtain as you know, since November 1, also with this beautiful paint and heavy branches. And that's a recorded window with the controller shooter not visible in Sibirian in fact, let me shut. and finally, from the beautiful keyboard, my DGXXX40 APG 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 625 75 ANGRETE DEGIMOLTO PIVOLO FLORICIAN REPORTS STILLA GREATING TO SURREON ALSO TO ME BUT FINALLY I HOPE YOU GO LEVING GREAT BREAKFAST LIKE NO IT'S LATE BUT WICK UP A BIT LATE SO I'll DO IT SESONN I'M REALLY HUNGRY AND AS WE WELLS SAY BREAKFAST IS ALL CUSTOMBER THE MOST BEAUTIFULTING in life and the world, absolutely. I'll see you tomorrow. Today, no, also today, so far, because as you know, it's Tuesday.